Per come è il testo, questo è un assist alle adozioni, non alle unioni civili. Se parliamo di unioni civili dobbiamo parlare di tutt'altro, non è certo il testo Cirinà che ci porta in quel senso. Poi possiamo discutere di tantissime cose, ma se si utilizza strumentalmente l'argomento delle unioni civili per arrivare all'adozione dei figli per le coppie omosessuali, noi non ci stiamo.